La scuola calcio elite della polisportiva Santa Maria è scesa in campo per pulire le spiagge di Castellabatte nell'ambito dell'iniziativa nazionale spiagge fondali puliti promossa da Lega Ambiente. I giovani del club giallorosso guidato dal presidente Francesco Tavassi hanno pulito le spiagge di Marina Piccola, della Prodo Legatte e del Pozzillo riempiendo un bel po' di sacchi di rifiuti di ogni genere, soprattutto plastica. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Lega Ambiente Campania e il locale circolo di Lega Ambiente con il patrocinio del comune di Castellabatte. Questo rappresenta solamente il primo step di un progetto più ampio che mira a far diventare la società giallorossa con la scuola calcio e la prima squadra sempre più a impatto zero e sostenibile, riducendo in primis il consumo di plastica. Valori come la difesa e la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio sono importantissimi, specialmente per un paese come il nostro che fondamentalmente vive di turismo, afferma Rosario Baldi, tecnico dell'attività di base, che ha accompagnato i bambini durante le attività di pulizia. Tutti i ragazzini sono stati entusiasti di partecipare all'iniziativa e sicuramente anche in futuro sposeremo. Iniziative simili, ha detto, vedere sulle spiagge di questo comune tanti bambini che si adoperano per la pulizia delle spiagge e significa trasmettere un messaggio importantissimo anche a noi adulti, che è quello di custodire e tutelare le nostre bellezze, aggiunge il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri. Ringrazio per questa giornata la Polisportiva Santa Maria e il Lega Ambiente con Michele Buonomo e tutti i volontari. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta per tutto il lavoro che sta facendo nello sport e soprattutto con l'attività giovanile la società giallorossa e il presidente Francesco Tavassi. Un pensiero speciale vorrei dedicarlo però al vicepresidente Alfonso Tavassi, che ha creduto e crede fortemente in queste iniziative di carattere ambientale. È particolarmente significativo portare qui la campagna nazionale di Lega Ambiente in questi luoghi straordinari nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, ma soprattutto per la presenza di tanti ragazzini, bambini di una scuola calcio, aggiunge Michele Buonomo del Direttivo Nazionale di Lega Ambiente. Noi abbiamo voluto fortemente questo incontro perché crediamo fortemente che anche le scuole calcio possono diventare dei luoghi di formazione di una nuova cittadinanza che abbia al centro l'attenzione per l'ambiente, per questi ambienti veramente meravigliosi e poi perché i bambini sono essi stessi portatori di questa nuova cultura nelle loro famiglie. I mister, gli allenatori di calcio, soprattutto delle squadre giovanili, devono diventare degli educatori ambientali popolari nel senso più nobile del termine. Le conclusioni di Pasquale Colella, referente di Lega Ambiente Castellabate. Questa è la nostra felicità, ha detto, il tempo passa, noi ormai siamo quasi anziani, però c'è sempre la nuova generazione di ragazzi che partecipa alle iniziative ambientali e di civiltà. La protezione del territorio è sempre una cosa molto importante. Il primo obiettivo di questa giornata è proprio quello di sensibilizzare i ragazzi su queste tematiche così importanti e siamo felici di averlo fatto insieme ai ragazzi della Polisportiva Santa Maria.